...e lo sfondamento centrale, una strategia che è la fine e balza loro la vittoria. Siamo ai titoli di coda, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Si fa anche due per sicurezza, poi io faccio anche l'altro per sicurezza e ritorno. Grazie. Come l'aspettavo un 4 a 1, aspettavo un 8 a 1. Grazie.